C'è il maggior sento una forza, una legge dell'azione e ottenuto, fissiamo una data intanto, concordiamo un'altra e meno di possano richiedere, o facciamoci dire, una data della di Marana e poi riprendiamo il genovese così utilizziamo anche questa seduta di oggi. Io darei fra un attimo perché la relazione è meglio che sia. Allora, ci siamo, grazie.